e buonasera dalla for air la clinica del dottor john colla qui in atlanta georgia stati uniti abbiamo pensato di realizzare una serie di trasmissioni di videi in questo caso per fornire delle indicazioni dei suggerimenti e anche dei consigli a tutti coloro che si trovano nel in questo momento alla ricerca di una soluzione valida per il loro problema dei capelli il problema può essere sicuramente o calvizie incipiente o comunque qualsiasi cosa che sia legata alla perdita di capelli rispetto a quello che era lo stato giovanile o comunque adolescenziale pensiamo di fare questo per aiutare tutti coloro che sono appunto alla ricerca di una soluzione dando dei consigli e suggerimenti che possano risultare validi indipendentemente dal fatto che noi si cerchi di commercializzare la nostra clinica titolo di questa di questa trasmissione che è la prima di una serie di trasmissioni che verranno fatte ogni giovedì alle 19.30 di sera un orario comodo per la clientela per italiana perché effettivamente non lavora più in linea di massima ma si trova a poter eseguire questa trasmissione lo scopo essenziale è quello di fare una carrellata sul su questo problema del del trattamento e delle operazioni per il trapianto dei capelli nasce l'idea da uno spunto semplicissimo stiamo vivendo in un periodo di iper informazione nel senso che tutte le fonti informative che riguardano un determinato argomento come in questo caso il trapianto dei capelli sono estremamente inflazionate non sono solo queste ad essere inflazionate tutta l'informazione in generale è diventata ridondante il sistema pubblicitario soprattutto sui social media e anche su internet chiaramente ha amplificato questa tendenza e oggi una persona che si trova ad avere un problema o comunque a dover affrontare un problema di qualunque tipo nel caso specifico la caduta dei capelli si trova davanti una valanga letteralmente di informazioni e deve cercare di gestire questo mare magno lo chiamiamo così un po all'italiana e per cercare di trovare una soluzione che possa essere la sua soluzione cioè quella che va bene per lui quando parliamo chiaramente di di capelli quindi parliamo del senso estetico e parliamo della necessità di avere un look migliore un aspetto migliore e tornare a essere un po come si era da ragazzi no quando in generale i capelli erano tanti e abbondanti per molti oggi è un'esigenza importante importante per una questione di aspetto per una questione di amicizie per una questione di mostrarsi se stessi in pubblico da un punto di vista psicologico anche io sottolineerei che è un po una scoperta in che senso una mattina ci si guarda allo specchio e improvvisamente si ha una sensazione particolare quella di avere meno capelli di prima è capitato a molti succederà ancora moltissimi e credo che questo sia un po la la molla che fa scattare interesse per questo tipo di problematica tornando all'informazione in particolare e parlando di marketing perché poi alla fine il marketing oggi permia qualsiasi tipo di settore di mercato ma qualsiasi cosa viene marketizzata tra virgolette in una maniera incredibile questo porta ad aumentare questa confusione o comunque questo sovraffollamento informativo di cui vi parlavo qualche minuto fa cosa fare riguardo a questo io penso che la cosa più importante sia ridurre il campo di osservazione anziché guardare 77 mila operatori che potrebbero potenzialmente risolvere il problema guardando in particolare come facciamo tutti la questione di aspetto del costo costa meno quindi è più conveniente in questo caso questa proposizione diventa estremamente critica e critica per un motivo semplicissimo dalla clinica foreire il 40 per cento della clientela che viene qui a richiedere dei trattamenti speciali per i capelli e dei trapianti in particolare il 40 per cento di queste persone ha già subito uno due o certe volte tre interventi chirurgici con dei risultati che sono stati decisamente disastrosi quindi questo dato vi dovrebbe far pensare una clinica come questa opera da 20 25 anni e in 25 anni il 40 per cento costantemente di persone che vengono a richiedere un intervento riparativo è veramente tanto cioè questo dà da pensare e non è soltanto negli states che questo avviene perché abbiamo molti clienti che vengono dall'italia e per non dire da altri posti affascinanti del medio oriente che voi conoscete bene perché fanno un grandissimo marketing e una grandissima pubblicità anche sul mercato italiano 40 per cento di persone che hanno delle frustrazioni hanno speso del denaro hanno avuto dei pessimi risultati e francamente non sanno più a che santo rivolgersi noi non siamo dei santi però sicuramente vogliamo dare una vogliamo dare un aiuto e dirvi una cosa semplicissima al di là della retorica di marketing noi vogliamo dire che la clinica for air è una clinica altamente specializzata altamente di livello quindi è una clinica che voi dovreste considerare se non altro da un punto di vista informativo e da un punto di vista di riferimento per vedere effettivamente quali sono le tecniche chirurgiche o comunque le tecniche di ripristino dei capelli più innovative e nello stesso tempo più sicure perché la sicurezza chiaramente si abbina molto alla potenzialità dell'innovazione e nessuno vuole essere una cavia nessuno vuole essere il primo a sperimentare determinati trattamenti e la cui validità non è testata non è provata nessuno di noi lo vorrebbe fare quindi già questo vi dà una guida su un elemento importante innovazione sì ma coniugata sempre con un'esperienza e con una casistica di interventi di successo quindi quello che viene chiamato il successo vero e proprio di un operatore diventa l'elemento principale non solo di scelta di questo operatore ma di riferimento quindi queste trasmissioni che noi faremo sono trasmissioni essenzialmente di riferimento non vogliamo porre le enfasi sul fatto che siamo i migliori o che siamo bravi o siamo i primi al mondo tutte queste cose non le vogliamo dire non le vogliamo dire perché le dicono tutti quindi quando tutti sono i migliori mi capite bene è difficile veramente sapere e capire chi lo è davvero allora bisogna guardare quello che è successo bisogna guardare le casistiche bisogna guardare quello che l'operatore ha svolto e da quanto tempo l'ha svolto sicuramente in questo settore entra molto l'estetica non è soltanto la tecnica avanzata di chirurgia o di ripristino dei capelli con il metodo delle piastrine o piuttosto con le iniezioni o con le cellule staminali quello che conta molto è la il grado di successo i casi che sono stati risolti brillantemente e quindi l'esperienza che è stata accumulata anche dal lato estetico il lato estetico è importante perché l'operatore sapete bene probabilmente vi siete anche informati ha una maestria che sviluppa nel tempo attraverso innumerevoli trapianti per dare a questi capelli rinnovati l'aspetto che essi avrebbero avuto prima della caduta e questo è importante perché significa un talento artistico cioè c'è arte in questo mestiere non è soltanto una questione di essere bravi con i pinzoni operare bene con gli strumenti avanzanti questo è un caso in cui ci vuole un senso estetico è una capacità che sono qualche cosa di innate in un operatore cioè non è che questo si impari è un po come la pittura io posso imparare a dipingere non sono mai un buon pittore ci sono altri che invece sono molto bravi perché sono dei talenti naturali anche in questo caso dei capelli è importante avere un qualcuno che vi dia arte vi dia un plus un punto di forza in più artistico credo che questa sia un po la premessa che venga fatta per queste trasmissioni nelle quelle che seguiranno vedrete e ci saranno anche delle riprese fatte dirette di interventi su pazienti che chiaramente avranno dato il loro consenso per questo e questo vi farà vedere vi farà toccare con mano sia l'operatore che la tecnica che li utilizza molti video sono stati impostati su internet di questo tipo alcuni probabilmente un po troppo non vorrei dire artefatti ma sicuramente molto propagandistici quello che andrete a vedere invece nel nelle prossime puntate chiamiamole puntate come un serial televisivo è invece una realtà dal vivo dove effettivamente le cose avvengono nel momento in cui le vedete credo che questo possa darvi una uno spunto uno stimolo in più perché di spunti e di stimoli si tratta cioè quello che di cui tutti hanno bisogno tutti quelli che sono interessati alla caduta dei capelli al ripristino dei capelli hanno bisogno di sincerità sincerità è importante come vi ripeto come mi ripeto non ha senso dire noi siamo il numero uno al mondo forse probabilmente ma non sta a noi a dirlo quello che va detto lo devono dire i clienti lo devono dire i pazienti quindi la casistica molte cose contano quindi nella scelta di una clinica di un operatore una cosa che vi dico francamente ma lo dico anche a me stesso e me lo ripeto tante volte no perché la natura umana il costo in questo in questo tipo di problematica non deve essere al primo posto non deve essere al primo posto perché se si privilegia il costo si aumenta la percentuale di rischio è un po come in finanza no si guadagna di più quando si rischia di più ma si perde anche tanto di più quando si rischia di più il rischio è un fattore essenziale avere un operatore che segue è importante c'è un operatore che c'è prima durante e dopo i trattamenti il dottor col ha sviluppato una grandissima esperienza ma devo dire conoscendo personalmente che è un talento naturale quindi al di là del fatto che comunque abbia avuto una la capacità e l'inventiva di sviluppare strumenti chirurgici con la coli instruments che è la società che proprio sviluppa nuovi strumenti operatori che seguono la necessità quindi del chirurgo di poter effettuare gli interventi con una precisione e con un grado di sicurezza maggiore ha ispirato il dottor col nel realizzare questi strumenti che adesso vengono utilizzati come potete vedere anche sul sito della coli instruments su internet da svariate cliniche a livello mondiale quindi ci sono tantissimi operatori tantissimi in malesia in estremo oriente in cina in europa in italia che utilizzano gli strumenti del dottor col perché sono nati sul campo quindi non sono degli oggetti costruiti sulla teoria ma sono degli oggetti nati dall'esigenza della pratica la pratica chirurgica la pratica pratica di intervento sicuramente io spero che voi avrete delle domande da fare e per questo il forum vi potrà essere estremamente utile sul forum potrete trovare potete scriverci potete sottoporvi le vostre domande noi risponderemo e lo faremo in maniera spassionata cioè non lo faremo per portarvi qua in america per fare gli interventi ma lo faremo perché vogliamo aiutare a fare chiarezza in questo settore la chiarezza serve a tutti serve anche a noi chiaramente perché alla fine non è bello sentirsi equiparati a dei livelli di esperienza che sono decisamente estremamente inferiori a quello che invece la pratica e il talento hanno portato a fare in for air e quindi insomma non è proprio una non è una dichiarazione di intenti totale cioè nel senso anche noi siamo interessati in un certo senso ovviamente siamo operatori stiamo sul mercato però mi devo dire la verità siamo un po stanchi di tutta questa confusione perché siamo anche stanchi di vedere tante notizie false siamo stanchi di vedere tanto millantato credito come si usa dire anche nel settore finanziario perché perché è troppo cioè ci vuole onestà ci vuole anche un senso di come dire di decenza nel portare avanti quelle che sono le proprie istanze ma nello stesso tempo evidenziando la bontà la serietà di queste cose e io so che anche voi non sotto non solo in questo settore ma in tanti altri spesso girate su internet girate cercate di sapere da qualcuno come è andata un qualche cosa e quindi molto spesso decisioni vengono prese sulla base il mio amico ha avuto un buon successo e quindi ce l'avrò anch'io io vi invito a seriamente a stare attenti anche dal punto di vista statistico il valore statistico è importante il valore statistico conta dovete pensare che una rondine non fa primavera cioè io non posso fidarmi di affidare la mia testa a un operatore soltanto perché magari un amico un conoscente mi ha detto che il suo intervento gli è andato bene questo non è sufficiente dovete guardare la casistica dovete ascoltare e vedere quanti di questi interventi sono andati bene qual è la reputazione dell'operatore e questo è fondamentale non farlo è un rischio io vi esalto a non seguire questa strada e soprattutto non fatevi abbagliare dalle sirene perché ripeto costo basso uguale rischio alto in questo caso è importante che ci rispondiate importante che ci mandiate delle domande è importante che il forum diventi un po più interattivo e magari che ci sia anche del fare delle domande un legittimo dubbio sia nel ricevere risposte ma anche nel farle perché spesso mi capita di vedere anche sul sito certi argomenti vengono sul sul forum voglio dire belli capelli certi argomenti vengono un po accennati ma in maniera molto molto superficiale in questo caso la superficialità non ci aiuta e non vi aiuta bisogna essere molto precisi quindi se un giorno ci chiederete quanti sono gli interventi di successo della critica for air e noi ve lo diremo e vi diremo anche le percentuali di insuccesso e per quale motivo sono accadute e nessun operatore assolutamente indenne da un potenziale insuccesso ma come mi insegnate la statistica riduce enormemente la percentuale di rischio quando i numeri sono bassi in questo caso quando i risultati non positivi sono stati bassi non voglio ribadirvi ancora questo 40 per cento di clientela che corre a riparare un danno un intervento mal fatto ma ve lo devo dire perché anche questo è un dato statistico se si trattasse un numero più basso si potrebbe anche un po così magari non dare questa importanza ma siamo quasi alla metà siamo quasi alla metà degli interventi questo è un po troppo cioè fisiologicamente dovrebbero essere il 10 per cento il 15 per cento ma non il 40 questo è un preciso segnale un preciso segnale del fatto che sul mercato esistono tanti operatori che non sono in grado non sono capaci effettivamente di mantenere le promesse che fanno un altro aspetto che vorrei accennarvi un po per concludere questo e molti operatori utilizzano infermiere per effettuare i trapianti questo è un altro elemento critico perché sia per una ragione di dignità professionale e di bon ton professionale è il chirurgo che deve effettuare l'intervento non non mai un infermiere un infermiere può essere un aiuto può essere un assistente ma mai operare in prima persona ahimè purtroppo in molte cliniche o sedicenti cliniche questo non avviene cioè non c'è nemmeno il chirurgo presente nei casi in cui avviene l'operazione e questo non lo dico perché l'abbiamo inventato ma perché ce l'hanno detto cioè molti pazienti che sono venuti qua ci hanno detto guarda non c'era nemmeno il medico c'erano soltanto gli infermieri che hanno effettuato l'intervento ora non voglio dire che non esistano infermieri bravi non esistano infermieri che attraverso il training attraverso l'esperienza diretta abbiano imparato determinate tecniche però viva dio cioè voi pagate un chirurgo non pagate un infermiere e questo è importante questo è molto importante cioè per qualsiasi esigenza per qualsiasi evenienza deve essere il chirurgo deve essere il titolare che effettua l'intervento poi viaggi in paesi stranieri un altro argomento che ormai è di moda da morire cioè cosiddetto pacchetto viaggio che include divertimento magari anche una crociera a mare e all'intervento in se stesso beh anche lì c'è da pensarci perché cosa succede poi se avete un problema e tornate a casa dovete affrontare questo problema dovete gestirlo io non so fino a che punto i paesi esotici siano in grado di offrire questo tipo di assistenza post operatoria non lo so cioè probabilmente qualcuno di voi che l'ha fatto può dircelo e può dire sì è andato benissimo sono entusiasta sono stati magnifici ma così qualcun altro può dire no effettivamente è stato un incubo perché quando ho avuto bisogno di trovare qualcuno non ho trovato veramente nessuno io credo che a questo punto un po' come prima trasmissione credo di aver detto parecchie cose non tutte chiaramente perché è impossibile quello che è comunque conta è ripeto la vostra interazione questo è un video che serve per darvi appunto l'annuncio di questa serie di trasmissioni però quello che conta molto è l'interazione cioè io gradirei veramente che voi scriviate su questo forum e ci facciate le domande più disparate lo scopo ripeto è quello di aiutare aiutarvi a districarvi in una galassia di informazioni talmente ridondante che è difficile per chiunque credetemi anche per una detta ai lavori riuscire a capire qual è il dritto e qual è il rovescio io penso che a questo punto posso lasciarvi momentaneamente e in attesa di rivedervi o meglio voi di rivedermi il prossimo giovedì a 19 e 30 dalla clinica fored dottor colla io vi ringrazio per l'attenzione spero di essere stato minimamente d'aiuto per darvi un input su quello che poi seguirà nelle prossime puntate e con questo vi saluto e vi ringrazio cordialmente grazie ciao ciao